Lo hanno sorpreso a spacciare in una traversa del centro storico di Gela, bloccato, è stato arrestato e recluso presso l'istituto penitenziario minorile di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso attivissime indagini per identificare eventuali complici nell'attività illecita. Le manette sono scattate ai polsi di un 17enne. È stata la polizia, diretta da Francesco Marino, con il coordinamento della responsabile del settore, Laura Romano, ad identificarlo nell'ambito di un'attività di osservazione a distanza. Addosso, il ragazzo aveva un quantitativo già tagliato e confezionato per la vendita. A seguito di una tempestiva perquisizione effettuata presso il domicilio del ragazzo, sono stati rinvenuti diversi panetti di sostanza stupefacente, confezionati e celati all'interno del vano allocazione dell'autoclave. Sono stati sequestrati 700 grammi di hashish. Il 17enne è un volto già conosciuto per vari precedenti specifici. I carabinieri, diretti dal Maggiore Valero Marra, hanno segnalato alla Prevettura di Galtanissetta 12 giovani, di cui due minorenni, per la maggior parte incensurati e studenti. Durante il controllo del territorio nelle zone particolarmente sensibili della città e che più sono esposte al fenomeno dello spaccio di droga, i militari della locale sezione a Radio Mobile, nel corso di un servizio mirato a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad un controllo a tappeto di tutte quelle aree che sono frequentate in maniera abitudinaria da soggetti consumatori di droghe. All'esito dei controlli, avvenuti soprattutto nel centro abitato e vicino agli istituti scolastici, sono stati sequestrati circa 20 grammi tra marijuana e hashish, rinvenuti sia addosso ai soggetti fermati sia all'interno dell'abitacolo dell'auto su cui sono stati fermati. Uno di questi, bloccato proprio a ridosso di un istituto scolastico, in un orario prossimo all'uscita degli studenti, aveva con sé anche una tirapugni con lama di circa 8 centimetri. È stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.